Quello sulla Carresi di San Martino in Pensilis è stato un lungo e partecipato consiglio comunale al termine del quale Massimo Caravatta ha ritirato le sue dimissioni da sindaco. Critiche però arrivano da Tiziana D'Adderio, consigliere comunale di San Martino Libera. Così come ho detto e ribadito in consiglio comunale, noi siamo convinti del fatto che bisogna collaborare con le istituzioni e quindi non entrare in conflitto con le istituzioni, con il prefetto, assolutamente no. Solo grazie a una collaborazione si può tentare di salvare la corsa dei carri. Per quanto riguarda invece le dimissioni del sindaco, credo di essere stata abbastanza chiara durante il consiglio comunale, il sindaco secondo noi bene ha fatto a dare le dimissioni e secondo noi bene anche avrebbe fatto a non ritirarle queste dimissioni perché c'è stata proprio una cattiva gestione di tutta la corsa dei carri e sinceramente durante il consiglio non si è parlato assolutamente di revoca di dimissioni del sindaco. Abbiamo parlato di quello che deve essere l'organizzazione di questo gruppo di lavoro ma nessuno ha parlato di revoca di dimissioni. Una revoca che è arrivata proprio in seguito all'ordine del giorno che è stato approvato in consiglio comunale che dava mandato al sindaco di formare questo tavolo tecnico. Certo, noi abbiamo votato all'unanimità il sindaco però che attualmente in quella sede era dimissionario non per questo doveva essere il sindaco Massimo Caravatta. Che ne pensate invece dell'idea di un consorzio che metta insieme tutti e tre i comuni della Carrese e quindi unisca un po' le forze dei varienti? Ma io credo che sia una soluzione diciamo così da adottare in quanto comunque le spese abbiamo visto che comunque sono molto elevate quindi una sinergia tra i vari paesi in cui si svolge la Carrese potrebbe essere veramente una soluzione fattibile proprio per poter far svolgere la Carrese nel rispetto di tutte le regole che vengono imposte.